Allora, vittoria meritata del Crotone c'è poco da dire, Pescara però sullo 0-0 ha avuto quella occasione clamorosa con Maniero, non c'è la controprova, se avesse segnato Maniero probabilmente le cose sarebbero potute andare anche in maniera diversa, però poi invece il Crotone ha vinto e ha vinto con merito. Sì, è stata una bellissima partita soprattutto al primo tempo combattuta, come hai detto tu se avesse fatto gol Maniero magari sarebbe stata un'altra partita, invece per fortuna ci è andata bene, comunque abbiamo fatto una grandissima partita sotto tutti gli aspetti, complimenti alla squadra e continuiamo così. Io direi che il 3-0 finale rispecchia quanto visto in campo perché avete dato una grande dimostrazione di superiorità soprattutto dal punto di vista organizzativo, arrivavate con facilità in porta soprattutto tu e Benali, quindi le mezzali. Sì, abbiamo preparato tutta la settimana la partita in questo modo, abbiamo avuto una grandissima gestione della palla, siamo stati calmi, siamo stati molto pericolosi e complimenti davvero. Una vittoria importante per voi che fa seguito al successo con la Juve Stabia, all'inizio di stagione c'era stato qualche problema, ora sta uscendo fuori il Crotone che vuole stroppa. Sì, secondo me c'è sempre stata comunque la prestazione da parte di tutta la squadra, magari sotto alcuni aspetti dobbiamo sempre migliorare, però ci siamo e l'abbiamo dimostrato oggi come in altre occasioni, magari siamo stati meno fortunati, però l'importante come ho detto prima è lavorare sempre così forte. Mi dici in chiusura come l'avevate preparata la partita con stroppa in settimana, noi magari vogliamo sentirlo dall'allenatore ma non è possibile. Certo, prepariamo sempre la partita in base agli avversari, noi abbiamo questo grandissimo palleggio, questa grande tranquillità di aspettare la giocata e l'abbiamo fatto così, siamo stati bravi a non forzare la giocata e giocare con tranquillità.